Hai fatto caso che adesso le mamme sono amiche dei loro figli, vanno a fare shopping insieme Tesoro come mi sta? Fammi vedere come ti sta? Uguale a quando eravamo piccoli noi Negli anni 80 la mamma andava al mercato da sola e con 2000 lire ti comprava le quattro magliette più orrende che trovava con i cinghiali disegnati, caso, ed erano di un cotone talmente loffe con le magliette lì che tu la mettevi nuova, passava il tuo amico, ciao, si sbregavi la scella e occio perché le sentivi anche su, cratino, ero sulla maglietta, pam Poi sono arrivate le marche, allora tu cosa volevi? Volevi le Nike, la mamma cosa ti comprava? Mike, taroccata al mercato Poi tu volevi Adidas, la mamma Addas, taroccata al mercato Poi tu volevi Best Company, la mamma General Company A un certo punto ero talmente vestito taroccato, caso, che i miei amici pensavano che fossi cinese Ma quello lì, cioè, che ti comprassero i vestiti taroccati, era ancora un privilegio Hai mai fatto caso che una volta c'erano i bambini che si chiamavano, che ne so, Paolo e avevano la maglietta in un sito Alberto? Eh, perché una volta c'era il riciclone degli abiti Quando i vestiti non andavano più bene a te, la mamma faceva una scatola e la dava a sua sorella Poi sua sorella, a sua volta, quando servivano più, le dava alla vicina di casa Poi la vicina di casa le dava all'amica, poi l'amica Dopo un po' le ridava a tua mamma, la quale apriva la scatola e cosa trovava? Amore, la maina, le Alberto Guarda che c'erano donne incinte che chiamavano Alberto il figlio Così almeno una maglietta buona ce l'aveva Tu ridi, ma io sono cresciuto a Bedizzone Qua c'è Alberto che è perché la maina è casuale Ha, 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 ha